Abbiamo concluso l'intervista con il presidente Sinigallia della fondazione Progetto Arca parlando di una storia a lieto fine di due giovani fratelli egiziani e vogliamo tornare in Egitto. Vicinanza, solidarietà, umanità sono alcuni tra i principi chiave della fondazione della fratellanza umana ispirata al documento sulla fratellanza umana firmato e promosso anche da Papa Francesco nel 2019. Noi siamo collegati questa mattina, lo ringraziamo per la disponibilità con Monsignor Ioannis Lazzigaid, presidente della fondazione della fratellanza umana. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutte le persone che ci seguono. Sono numerose le attività che la fondazione promuove, può illustrarcele? La nostra fondazione fratellanza umana, come la nostra associazione Bambino G2 del Cairo, come lei ha detto, sono sperate, fondate e basate sul documento sulla fratellanza umana fermato dal Santo Padre Paolo Francesco e dal grande Imam di Al-Azhar, il dottor Ahmad Al-Tayyim, ad Abu Dhabi. Dopo la firma è nata la domanda, come possiamo trasformare questo concetto della fratellanza in qualcosa di concreto, qualcosa che aiuta le persone veramente. Ecco perché attualmente stiamo lavorando su quattro iniziative. La prima è un orfanotrofio chiamato Oasi della Pietà, a cui il Santo Padre ha regalato, ha dedicato una copia della Pietà. Da questo regalo noi abbiamo esperato anche il nome, che è una casa che accoglierà centinaia e centinaia di bambini e di bambine, privi dell'assistenza familiare, e darà a loro tutto ciò che noi desideriamo dare ai nostri figli, cioè casa, formazione, assistenza, tutto quello che noi desideriamo dare ai nostri figli. Questa è la prima iniziativa, iniziata nel 2020 e tra pochi mesi, a metà aprile, aprirà le porte a ricevere i primi ospiti con l'aiuto di Dio, ovviamente, e con l'aiuto di tutte le persone che ci hanno aiutato in questi anni. La seconda iniziativa è l'ospedale Bambino Gesù del Cairo, dal nome si capisce che sotto la supervisione scientifica del Bambino Gesù di Roma, per affrontare la grave situazione delle malattie rare e ereditarie, sia in Egitto, sia in tutto il Medio Oriente. Un'altra iniziativa molto bella è quella dei convogli sanitari, le caravane mediche, che offrono assistenza medica e sanitaria a tutti i bambini poveri, dove non ci sono strutture mediche, quindi andiamo con i nostri medici per offrire medicine, vaccine, assistenza gratuitamente a migliaia e migliaia di bambini, ogni settimana tra 800 e 1000 bambini, dove c'è bisogno. La quarta iniziativa è la catena di ristorante chiamato Fratello, anche dal nome, la fratellanza, per offrire cibo a migliaia di famiglie. Il primo ristorante è stato aperto al Cairo e ha l'obiettivo di dare cibo in maniera dinitosa a 5000 famiglie che ovviamente abitano intorno e che sono famiglie disagiate che non possono per motivi ovvi andare al ristorante. Verranno accolte, ricevute, sederanno, verranno anche servite e sceglieranno dal menu il cibo che vogliono. E la cosa bella è che questa iniziativa si basa sulla solidarietà, quindi le persone che possono dare aiuto praticamente caricano una carta prepagata che servirà alle famiglie povere che non potranno permettersi questa possibilità. Queste sono le quattro iniziative sulle quali lavoriamo come associazione e come fondazione. Don Ioannis, c'è tanto lavoro dietro, lo abbiamo capito anche dalle tue parole. Torneremo tra qualche istante sull'ospedale Bambin Gesù, ecco dal nome evocativo come giustamente hai detto tu. Tu tra l'altro sei stato segretario particolare di Papa Francesco per tanti anni. Come ha accolto il Papa questa notizia, potremmo chiamarla così, questo davvero rimboccarsi le maniche a favore di bambini e persone bisognose? Tutte queste iniziative hanno avuto inizio dopo la benedizione del Santo Padre. Il Papa ogni volta che ci vediamo chiede come va l'orfanotrofia, come va l'ospedale, come vanno queste iniziative. Quindi anche il Santo Padre ci segue con la sua benedizione e con il suo sostegno spirituale perché anche a lui fa tanto piacere vedere che il documento fermato con il Grande Imam sta trasformandosi in cultura, in solidarietà, in azioni concrete. Quindi il Santo Padre ci segue, ci benedice, ci accompagna e come ho detto all'orfanotrofia ha regalato questa copia della pietà all'ospedale Bambino Gesù. Andiamo avanti con il suo sostegno. Questa iniziativa per esempio del ristorante ho avuto il piacere di presentarla al Papa con un altro imam in visita privata che è il consigliere del Presidente della Repubblica Egiziana che siamo andati da lui, li abbiamo parlato di questa iniziativa e lui l'ha accolta molto bene, si è ancoraggiato di portarla a termine e con veramente l'aiuto di Dio è stato inaugurato questo primo ristorante che sarà il primo di una catena in tutti i posti dove c'è bisogno. Ecco, allora, visto che l'anno è diciamo relativamente iniziato da poco, ci sono altre attività, altri progetti che porterete avanti in questo 2024? C'è un'iniziativa che stiamo portando avanti adesso che è molto attuale, è l'aiuto per Gaza. Sappiamo che a Gaza c'è la guerra, ci sono tantissime famiglie che si trovano senza il necessario, quindi la nostra fondazione, la nostra associazione Bambino Gesù del Cairo abbiamo iniziato una raccolta fonde per poter portare a queste persone, a queste famiglie è necessario, quindi cibo, medicine, coperte e chiediamo a tutte le persone di buona volontà di darci una mano per poter portare questi aiuti ai nostri fratelli bisognosi. Questo è il nostro sogno, ma il nostro sogno in questo anno 2024 è quello di unire il numero più alto di persone generose per poter raggiungere il numero più alto di persone bisognose. Noi abbiamo questa frase che ci ispira sempre, che con il poco di tante possiamo fare la differenza e che tutto il buio del mondo non può mai spegnere la luce di una piccola candela, quindi non si tratta di fare cose grandi, ma di fare cose piccole con grande amore. Don Ioannis, concretamente come possiamo aiutarvi? La gente come può mettersi in contatto con voi per, ecco anche logisticamente potremmo dire, portare aiuto a chi ha più bisogno? Ringrazio per questa domanda, io invito tutte le persone che ci stanno seguendo a visitare il nostro sito www.bambinogesu.com.com Là sul sito c'è una pagina dove tutte le persone possono trovare tutte le modalità per darci una mano. Una delle modalità che mi fa piacere adesso spiegare alle persone è quella di regalare una formella, una formella è una piccola pietra all'orfanotrofio sul quale verrà inciso il nome della persona o dei figli o dei genitori come segno di solidarietà. Tutte queste formelle insieme faranno il logo dell'associazione e verrà collocato all'entrata dell'orfanotrofio per due motivi. Il primo per dire grazie a tutte le persone che ci aiutano e il secondo a dire ai nostri piccoli bambini che verranno accolte in quella casa nell'orfanotrofio che questa casa non è venuta dal cielo. È venuta dal cielo perché Dio ci ha aiutato ma è venuta anche grazie alla generosità, al sacrificio di tantissime persone che insieme formano questo logo, questo mosaico e questa iniziativa che hanno creduto, che hanno partecipato. Questa è un'altra iniziativa. Poi tutte le modalità per fare un bonifico, una donazione si trovano sul nostro sito. Grazie, grazie di cuore per questa sua grande testimonianza, grazie per quello che fate. Naturalmente rimaniamo, restiamo a disposizione anche per fare da cassa di risonanza ad altre iniziative e per sapere un po' anche come stanno andando i progetti in corso. Grazie, grazie Don Ioannis. Grazie a voi e vi invito all'inaugurazione dell'orfanotrofio a metà aprile con l'aiuto di Dio. Grazie, grazie di cuore. Ci fermiamo per la pubblicità, adesso qualche istante di pausa e poi l'ultima parte di Just Today. Grazie a tutti.